A Yesk, città portuale russa di 90.000 abitanti che si trova sulle sponde meridionali del Mar Dazov, la gente del posto porta fiori vicino a una lavagna su cui si legge «Ricordiamo e piangiamo». Il cordoglio è per le 14 vittime sinora accertate nello schianto del jet militare russo contro un edificio residenziale. A rendere noto il bilancio provvisorio è l'agenzia di stampa TASS, citando il Ministero delle Emergenze di Mosca. Tra le vittime ci sono anche tre bambini. Decollato lunedì sera dall'aeroporto militare del distretto meridionale, il caccia è precipitato dopo pochi minuti di volo sull'edificio di Nove Piani, in un'area residenziale della città. I due piloti sono riusciti a mettersi in salvo, lanciandosi prima dell'impatto. Dopo lo schianto, le fiamme hanno interessato almeno 17 appartamenti. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, citato dalla TASS, il mezzo militare avrebbe preso fuoco per un guasto al motore.